Musica Saluti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Qui con Velox Oggi sono qui per portarvi finalmente un nuovo video In cui andremo ad utilizzare i mirini più brutti di Black Ops 3 Proprio i mirini peggiori ragazzi Sapete no, quelli che trovi nelle casse e ti chiedi Ma chi può usare una cosa dal genere? Ecco io, io le uso E oggi, oggi, il mirino che utilizzeremo oggi E' un mirino che ho trovato nel precedente pack ovening Ovvero il mirino clessidra ragazzi Già il nome dice tante cose Forse il mirino più buffo che abbia mai utilizzato Proprio divertente da vedere Non ve lo so spiegare, cioè vi fa ridere perché è troppo stupido E' una fottuta clessidra, ve lo faccio vedere Che fa veramente ridere, cioè è inutilizzabile Vi giuro che è inutilizzabile Guardate raga, cioè ma come cazzo si può giocare con una clessidra come mirino? Cioè vi giuro che secondo me è il più buffo che abbia mai utilizzato Comunque, cerchiamo di fare il ratio 2 L'obiettivo è questo raga, fare almeno ratio 2 Che non è facile vi giuro Perché io ho proprio difficoltà a giocare con queste cose Questo ci ha inculato così proprio Di brutalità Ratio 2 Cioè questi sfide del ratio sono tanta roba Perché uno si fissa Questa cosa e ogni volta che muore deve fare appunto Due chi per recuperare, quindi Non è facile così andare che sto giocando con quest'arma Cioè con questo mirino più che altro L'arma, cioè è normale, ci sta No, lì sto un no, però vedi Vedi, vedi cosa mi fa morire Dove cazzo sei? Muori, muori Che li andiamo a prendere da dietro questi? No, li hanno già presi Da lontano però raga Cioè, non fa così schifo Cioè da lontano le kill le fa... Oddio, le faccio Due nemici qua mi sa Mori Dai, non rubatemeli No! Me li rubano e poi muoio Proprio oltre al danno anche alla beffa Qua C'è nessuno Se mi lanci in acqua muoio, lo so È sempre così Infatti vorrei evitare di farlo Qua non c'è nessuno Qua ci sarà il tipo che guarda dietro, infatti No ragazzi, no Dopo questa veramente raga Dopo questa No, no, dopo questa raga Veramente non commento più Ogni cosa che succederà sarà superflua Perché veramente questo è È il succo di Black Ops 3 Game for Connection players Vediamo qua Mori Qua sicuro c'è il solito tipo che controlla Ole E zio, devi morire però Ok Ok, perfetto Questi ora vengono da dietro Lo scommettete Nessuno Siamo Più tirati o due Ci sta andando bene per ora Questa la faccio giocato poche volte Quindi non so esattamente Muori Bastardo, cazzo fai Non mi ricordo neanche bene Come è strutturata Qua secondo me è pieno di gente Via, via, via Andiamo qui Cerchiamo di liberare questa postazione carina Madonna raga Madonna raga Mi sto incazzando eh Sto morendo solo da dietro se ci fate caso Cioè non È proprio Perché è una mappa strana Oddio 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 No, no Affacciati Ok Let's go Qua mi campero Camperiamo Oddio Sono circondato completamente Eh però dovete morire Ma basta rubarmeli No vi giuro raga Beato chi riesce a giocare con questa cosa A parte che vi ripeto La partita non ha una logica Fateci caso Cioè È tutto un Bordello continuo Cioè non c'è una Non ho idea di dove siano i nemici Di dove spawn So solo che sono in giro per la mappa Con i mitraglioni Per il No non è un mitraglione Ma è un war A vero Sta cazzo di macchina da guerra Oddio quanti sono Ci manca anche questa cosa Ci manca anche la corazzina Mori Oddio Dio mio Me li rubano tutti eh No Ecco qua Come morire senza motivo Oddio Oddio Sono salvo Uavì Proseguiamo Chi cazzo mi sta sparando Porca puttana Ne abbiamo dietro eh Muori Non male raga Ok Ok Allora ci abbiamo uno lì E uno che vuole venire qui per forza E basta però eh È già troppo tempo che gironzoli lì Allora siamo a 17.6 Quindi il reto 2 per ora c'è Quelli facciamo l'imboscata raga questi Ah quanto ti ho fottuto eh Ora però scommettete che mi fotte lui Perché spona qui e mi aspetta No allora Ok ok Ce ne sono di spalle qui Potrebbe essere una easy kill Olè Non sarebbe male Sono completamente circondato Non voglio morire ora Perché sono in serie Morto Ma vaffanculo Porca troia Guardalo Avevo quasi il wright Però il rato 2 c'è raga Per ora Ce lo stiamo mantenendo Siamo a 27 Col mitico mirino clessidra Quanto fatica Per ammazzare questi individui Ok Camper un po' Ho un wav ma Dai il contrattacco è finito ormai Tiro l'wav Olè cazzo quanto Quanto Ho azzeccato il timing Vabbè mi dà un colpo Che due coglioni raga Mi tirano tutti un proiettile Comunque sta andando benissimo Siamo L'hanno dato 2 perfettamente Cioè ci siamo proprio dentro di brutto Cerchiamo di non morire più Andiamo qui Eh vabbè raga Ma quante hit marker faccio Non sto più killando eh Sto solo faccio un hit marker Vorrebbe più sapere il numero di assist Però dobbiamo cercare Che cazzo fa questo qua Dobbiamo cercare di rompere questa hill Hanno l'M8 Ciao Non la rompremo mai raga Perché c'è quel tipo là in fondo con l'M8 Mamma mia Mamma mia che tristezza Non la romperemo mai raga Mai E io faccio il giro però Anche perché Non posso morire più di tante volte Lo sapete Se no poi rateo 2 Ciao Muori Ok La prossima dovrebbe essere qui Ma che cazzo No l'alleato ha fatto glitch E mi è finito dietro Quindi Madonna che sfiga Raga Non possiamo più morire Tante volte Cioè Sta andando male Sta andando male Nel senso ci sta Si è un po' ribaltata la partita Pure il guardian Ma che lobby Stiamo anche perdendo Ok ok Rotta Andate affanculo Muori No Ok 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 Una bella doppia dai Ma perché mi fa spawnare continuamente dall'altra parte della mappa Devo farmi ogni volta un'ora di corsa così Muori Cazzo sto guardian Veramente Muori Muori Hanno distrutto il guardian E' ancora qui a rompere i coglioni E' ancora qui La heal è cambiata Adesso c'è l'altra Io sto qui Secondo me Questi arrivano da qui Sapete Infatti ne sento uno saltare Sta saltando uno ma non lo vedo Mi ha distrutto E' veramente uno schifo questo mirino Comunque ragazzi vi giuro L'imprecisione è fatta a mirino Saliamo qua Non c'è nessuno Va bene La mia arma spara coriandoli Non faccio danno Non faccio danno Faccio hitmarker e basta Ok ce ne sono un paio qua sopra Uno Muori E' scappato lì dentro quello Cazzo Guarda come scappa Guardalo Guardalo Ne è uno dietro Sono morto Zio salvami Oh Quanto l'abbiamo distrutto Questo qua La postazione è qua sotto I amici arrivano da lì Mamma mia ragazzi Ma faccio veramente Solo hitmarker Cioè Carichiamo qui Che qua arrivano in mille Sicuramente Oh cazzo Sono mille da dietro Oh cazzo Oh cazzo E me li rubano Qua arrivano tutti raga Siamo Il rato 2 ci sta C'è tutto Qual è Entriamo qua Uno Due Fuori da qui Vai Visa Traga E' Vright Buono così Buono così Rato 2 c'è C'è tutto C'è tutto E sì Tenetevi là Il tentato vi arriva Il mio Vright In testa Vi spacca Bastardi Mori Che cazzo mi sta stordendo Ma uscite dai raga Che finisce Uscite Uscite Bella partita Mi è piaciuta Combattutissima Mi è piaciuta Vai kill All'inizio Ce la fa raga Ce la fa Ce la fa Col mirino bussola Ce la fa Comunque Per il prossimo episodio Scelgo un altro mirino Che avete votato Nel precedente video Perché vi spiego Nel precedente episodio Vi ho fatto votare Però quello che sto usando oggi L'ho scelto io Perché l'ho trovato Nello scorso pack opening Quindi nel prossimo Uso quello che avete già votato voi Quindi raga Io spero che questo video Ti sia piaciuto Vi dito come sempre Lasciate un bel like Se volete un altro episodio E noi ci becchiamo Domani credo Perché questo video Dovremo usciare alle 18 Domani alle 13.30 Aspetta con un nuovo video Bella raga